Nei grossi film rivista americani spessissimo si può notare che non tutti i soggettisti hollywoodiani si fanno a pezzi per far piacere a te. E allora ci ammanniscono il solito cliché, cantanti che gorgheggiano da soli oppure in tre. Ragazzi che saltellano da male fino a sera, se buona via sopporta l'impazienza devi avere. Se una bionda milionaria d'eccezione, si innamora ad un cantante d'occasione, che all'istante le spiattella una canzone. Non sparate sul regista, di una pista si può trattare, se una studentessa in scienze naturali, si innamora ad un lattaio sulle scale. Ed insieme fanno un ballo razionale, ma sparate sul regista, tutta sua la colpa non è. In fondo in questo nostro mondo, gira in largo e in tondo, cosa puoi vedere? La roba pista e controvista, che nel film rivista torni a rivedere. Se l'hai tanto il marinaio di New York, accompagna una sardina il five o'clock, e con lei sui prati balla il land at war. Papà o papà, lo sparate sul regista, vecchio tradizionalista, che ti svegna da qualunque novità.